è sicuramente una grande opportunità per incontrare anche i nostri clienti attuali e potenziali alla Speciality and Fine Food Fair di Londra, appuntamento che riunisce il meglio dell'eccellenza gastronomica internazionale ad Olympia Kensington l'azienda italiana High Quality Food ha presentato i suoi prodotti di eccellenza e di innovazione italiana al mercato internazionale enorme e variegata la proposta presentata dalle diverse aziende riunite per l'esclusivo evento di due giorni nel cuore di Londra dove a spiccare tra gli italiani è stata sicuramente HQF, la cui eccellenza si può riassumere in pochi aggettivi innovativa perché siamo oggettivamente l'unico modello di agroindustria che esiste in Europa con una grandissima passione, quindi portiamo avanti la nostra missione con una passione che è declinata non soltanto nella mia persona ma da tutto il mio management e soprattutto ritengo un'azienda che abbia una grande capacità di emozionare il nostro mercato proprio per effetto della innovazione dei contenuti della nostra offerta gastronomica io voglio usare alcuni adjectivi per descrivere i quali alimenti è unico i prodotti che abbiamo presentato nel mercato sono davvero unico perché produciamo circa un 75% di prodotti che distribuisce di un'altra è che è di più di più di più, perché abbiamo prezziato i prodotti da l'inizio dall'inizio, da quando abbiamo plantato le città o quando l'animo è nata e abbiamo prezziato tutto ciò che abbiamo prezziato di sviluppare solo i quali ingredienti di migliori L'altra ricetta che io usare è Tasty. Tutti i prodotti passano in un processo di selezione molto stricte, che è fatto da molti nostri clienti e chef che hanno dato il feedback, che ha aiutato a migliorare il nostro catalogo e la nostra scuola. A guidare l'esclusiva visione di HQF, Simone Cozzi, CEO dell'azienda, e Luciano Nocita, responsabile vendite di Londra, che hanno raccontato come l'azienda riesca a far convivere autenticità e innovazione in un settore in continua evoluzione. La nostra visione, la nostra direzione è ormai chiara da anni, noi discutiamo enormemente sul nostro progetto di Open Industria e quindi sulla valorizzazione di tutto il progetto di filiera e la valorizzazione in particolar modo di un'agricoltura sostenibile. Tutto ciò ci mette alla condizione oggi di poter offrire al nostro mercato internazionale una gamma di prodotti incredibilmente innovativa per esclusività ma soprattutto per caratteristiche organolettiche. Nel U.K. il nostro obiettivo è portare tutti i prodotti specializzati dall'Italia. Credo che c'è un momento molto importante per dimostrare che il meglio si mangia e il meglio viviamo e che abbiamo portato solo i ingredienti più quali, che abbiamo prodotto in la migliore modo, a prendere il tempo e a usare il tempo come il nostro key factor in order to bring only the best, the product in the best way into the market. Our chef keeps choosing us because of the flavor, because of the perks and all the benefits that they get from using our products. HQF si distingue per l'attenzione alla sostenibilità con una filiera tracciabile e trasparente che permette ai clienti di conoscere l'origine e la qualità di ciò che acquistano. Impegnata a valorizzare le eccellenze del territorio, HQF si distingue come partner affidabile per chi cerca prodotti di alta gamma rispettando l'ambiente e il lavoro artigianale. Noi siamo qui oggi a presentare le nostre nuove produzioni zootecniche, in particolar modo il nostro Black Angus di filiera italiano che si chiama Maranguto, l'incrocio tra l'Angus e la Maramana è il nostro baglio di filiera. Le caratteristiche sono chiaramente quelle di avere una carne totalmente naturale, grain, con caratteristiche innovative e soprattutto con un grandissimo impatto su quelle che sono le nuove tendenze, e cioè l'Elty. La nostra carne oggi ha un livello di Omega 3 di circa 4.9, quindi è una carne che senza un belupio ha un impatto molto positivo sulla salute e in qualche modo sulla digeribilità. Abbiamo portato qui, questo anno, alcune delle nostre producciazioni che siamo molto orgogliati. Per esempio, il bruno cheese, che è il nostro style di hard cheese made from Pina Cao. Abbiamo anche portato qui il carpaccio di Marangolo, il salsicce di Marangolo, il piccolo salami, in termini di aiutare con la sostenibilità del prodotto, quindi che tutto non viene soldato come un stake, si viene trasformato in una charcuterie. Abbiamo anche portato il pecorino romano, siamo molto orgogliati di essere uno dei prodotti del pecorino romano, in Lazio, a 20 mesi di age, soldati da antiche. Il nostro conservatore, quindi abbiamo un zero residuo, dove creiamo le nostre croce e poi si trasformano in conservatore, delle puntatelle, delle cime di rapa, dei pomodori di confì, dei arti-shocks. La Brexit ha indubbiamente avuto un forte impatto sull'importazione di prodotti nel Regno Unito. Tuttavia, l'apprezzamento per i prodotti di alta qualità italiani è rimasto invariato. Il mercato, riteniamo, abbia avuto una grandissima contrattura, sicuramente per effetti di una crisi economica e finanziaria internazionale, ma soprattutto per un cambio di tendenza dei consumatori, che richiedono sempre e più informazioni su ciò che mangiano e riciclano delle esperienze di acquisto diverse rispetto al passato. Questo ci mette alla condizione di comprendere che tutto il mercato della ristorazione in Italia e nel mondo dovrebbe andare incontro a queste nuove esigenze, cercando di uscire fuori dalla logica di omologazione gastronomica e di offerta gastronomica. In questo contesto è evidente che noi ci candidiamo al mercato come una fonte autorevole di innovazione dal punto di vista gastronomica, cercando quindi di dare loro, a tutti i clienti potenzialmente interessati, l'opportunità di poter dedicare tempo e pensieri a una diversificazione della domanda. È indenuabile che il mercato, al momento, sta soffrendo un po' di crisi. Credo che il miglior modo di approcciare questo è di essere unico, di chiedere i migliori ingredienti, di andare al cliente con qualcosa che si ricordano e di tornare a tornare. Quindi, se ti porti un prodotto che potrebbero solo trovare nel vostro ristorante, o nel vostro delio, o nel vostro shop, dovrebbero tornare perché trovano qualcosa che nessuno di noi e che nessuno può presentare. In un mercato sempre più esigente e competitivo, HQF continua a farsi strada con determinazione, portando l'eccellenza italiana oltre confine. Grazie alla perfetta fusione tra tradizione e innovazione, l'azienda si conferma un punto di riferimento per chi cerca qualità senza compromessi. La presenza di eventi internazionali come la Speciality & Fine Food Fair non fa che rafforzare la sua posizione e il suo impegno verso un futuro sostenibile e trasparente. Grazie a tutti!